Bene, caffè napoletano, fantastico, vi ringrazio per la concentrazione, anche se una buona parte è ancora lì, la sala è gremita, bene, dicevo, attenzione che questo concetto è importante. Bene, nel libro primo della Metafisica di Aristotele, forse il primo grande modello di storia della filosofia, Aristotele parla di tutti coloro che l'hanno proceduto. E, leggiamo questa frase, coloro che per primi filosofarono, ritennero che il principio di tutte le cose fosse soltanto quelli di specie materiale. E poco dopo aggiunge, così per esempio Talete, pensò che il principio di tutte le cose fosse l'acqua. Ma come? Abbiamo fatto tutti questi discorsi, i temi così decisivi, alle zee, episteme, sul rapporto tra verità e morte, tra il dolore? E adesso abbiamo anche celebrato l'importanza dell'inizio del pensiero filosofico, e adesso ci sentiamo dire da Aristotele che il principio di tutte le cose è l'acqua, cioè da Talete. E perciò, anzi, Aristotele precisa che i primi che filosofarono, ritennero che tale principio fossero solo di specie materiale. Allora proviamo a dissipare la delusione. Attenzione. Talete, la quale è dovuta al fatto che la nostra attenzione è catturata dalla parola acqua, e non dal contesto in cui essa compare. Talete pensa che cipio di tutte le cose che sia l'acqua. Allora noi, ripeto, siamo concentrati sulla parola acqua e non riflettiamo sul concetto di principio, di cosa, e di totalità delle cose. Attenzione. Che quanto di più importante ci sia, perché non è che prima del pensiero filosofico il significato delle parole come principio, totalità delle cose fosse noto. No. Ebbene, quando Aristotele dice che i primi pensatori greci parlarono del principio di tutte le cose, parlano, o parla lui, parla di uno sguardo che per la prima volta delimita il confine ultimo delle cose, oltre il quale non c'è più nulla. Questo confine ultimo è un confine che costituisce, appunto, Tupan, l'articolo Tupan, il tutto. Ecco, siamo arrivati al... Ecco, siamo arrivati al... ... Grazie.